Ecco i collegiali maschi del collegio 7 Samuel Rosica, secondo me lui è il diavolo vestito da angioletto Mattia Camorani, secondo me lui le farà innamorare tutte ma spezzerà anche tanti cuori purtroppo Davide Di Franco, secondo me lui potrebbe essere quello che risolve il litige tra i collegiali Gabriel Renni, secondo me lui entrerà al collegio solo per rimorchiare e ci riuscirà pure Davide Cagnes, un altro che secondo me farà casino con le ragazze, iscriviti per la parte 2